Il prefetto Cardino e il sindaco di Catania un accordo interistituzionale per fare in modo che alcune strade, soprattutto quelle di collegamento dall'aeroporto a Taormina, le strade che escono da Catania e portano verso Taormina, siano rimesse in condizioni, per quanto riguarda per quanto stilale, per quanto riguarda l'eliminazione, per quanto riguarda la cartellonistica, in condizioni migliori. Sono risorse finanziarie pari a circa 200.000 euro che saranno utilizzate insieme ad altre del comune di Catania, così come ha dichiarato il sindaco, per rendere più funzionali e più efficienti anche queste strade di collegamento. Ci sono i tempi materiali per realizzare questi accorgimenti? Accorgimenti sicuramente, se il comune di Catania ha avuto queste risorse avrà preventivato appunto dei tempi idoni perché tra meno di 10 giorni insomma siamo nel pieno del tempo.